Con noi Mariolina Palomba, rotariana, cosa vuol dire essere una donna rotariana? È stato un evento un po' particolare nel club perché realmente c'erano pochissime donne e soprattutto sono stata la prima donna presidente di un Rotary Club ad Alighiero ed è stata veramente una cosa che in parte largamente accettata, chiaramente con delle ostilità. Consideriamo che nonostante il Rotary non abbia nessun pregiudizio nei confronti della politica, della religione, purtroppo ci sono ancora alcuni Rotary Club nel mondo che hanno dei pregiudizi nei confronti delle donne. Però in linea di massima sono stata ben accettata, tant'è che mi hanno indicato come presidente e sono stata la prima donna, ripeto, presidente del nostro club. Bisogna in quel caso fare il doppio della fatica per essere accettati o è più semplice seguire un po' il flusso e lasciarsi portare? Io sono una che ha sempre combattuto anche nel mondo del lavoro per conquistare una posizione perché anche nell'ambito della mia professione le donne, per esempio chirurgo, ho iniziato la mia carriera proprio come chirurgo, non erano facilmente accettate. In generale ritengo che le donne facciano nella società una fatica sempre doppia per dimostrare di valere almeno quanto gli uomini, valgono sempre un pochino più degli uomini modestamente. Abbiamo veramente una marcia in più perché siamo allenate da piccole a fare tante cose in contemporanea e poi siamo veramente state abituate a lottare per conquistare il nostro angolo di paradiso. E anche nel Rotary effettivamente è stata una conquista la donna perché inizialmente i Rotary Club erano fatti soltanto di soli uomini. Quando e come è entrata nel Rotary? Ci aveva mai pensato prima? No, non ci avevo mai pensato prima nonostante avesse avuto inviti da parte di amici già rotariani che mi parlavano del club, di questa associazione che io assolutamente non conoscevo. Poi, pinta un pochino dalla curiosità che è un pochino la mia caratteristica, ho effettivamente cominciato a chiedere cosa facevano, mi hanno invitato a alcune cene e lì mi sono appassionata. È un mondo che ormai fa parte della mia vita. Nel Rotary ci sono i distretti, le vani commissioni. Quali sono le sue mansioni? Allora, il Rotary Club di Alghero fa parte del distretto 2080 che comprende Roma, Lazio e Sardegna. Nell'ambito del distretto ci sono delle commissioni che si occupano di vari argomenti. Io faccio parte da tanti anni della commissione Legalità e Cultura dell'Etica, che è una commissione un pochettino sui generis perché non rimane chiusa nell'ambito del distretto, ma riunisce tantissimi club anche di altri distretti. È forse l'unico esempio di commissione distrettuale che però coinvolge altri distretti. Ogni anno ci occupiamo di portare nelle scuole dei progetti, di presentare dei progetti su argomenti vari. Sono sempre temi un po' scottanti e un po' impegnativi. Abbiamo trattato della corruzione, della contraffazione, dei tempi della giustizia. Abbiamo parlato dell'immigrazione. Ogni anno abbiamo sempre dei temi impegnativi. Portiamo nelle scuole, io come rappresentante ho questa funzione di parlare nelle scuole e di parlare a tutti i presidenti dei club del nostro progetto per cercare di avere il maggior numero di adesioni. Il progetto si realizza praticamente in un concorso che partecipano i ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori che possono partecipare con un saggio breve, uno spot o un documentario breve o anche uno scatto fotografico e a fine anno, di solito il mese di marzo, poi a Roma si fa una giornata finale, un forum in cui vengono invitati a partecipare i personaggi di spicco. L'anno scorso per esempio sul termine della corruzione c'era Nicola Gratteri che è il procuratore della Repubblica. Insieme alle scuole, agli insegnanti, è una festa grandissima e vengono premiati i primi tre classificati con dei primi che generalmente invogliano i ragazzi perché parliamo sempre di tablet, di computer. Quindi è veramente una gran bella manifestazione. Ormai tanti anni, ne faccio parte praticamente dall'inizio. Anche quest'anno mi hanno rinnovato l'invito e ho volentieri accettato. E proprio oggi per lei è arrivata una nuova nomina, quella Presidente della Commissione Distruttuale per la Sanità. Sì, per la Sanità, Maternità e Problemi della Famiglia, che hanno trovato una donna naturalmente, mi sembrava giusto. Sicuramente un onore. Sì, un onore e anche un onere, però comunque sappiamo che il Rotary è una ruota e quindi per fortuna non sono incarichi che durano perennemente, però sicuramente è un impegno anche per la presenza a livello distretto, perché poi le riunioni le facciamo quasi tutte a Roma praticamente. Le vostre commissioni sono molto simili a dei ministeri? Assolutamente sì, senza portafoglio. Esatto. Che rapporti ci sono con la politica fuori dal Rotary? La politica non entra a far parte del Rotary e quindi non abbiamo questi problemi. Noi veramente riusciamo a parlare, a dialogare con la destra e con la sinistra indifferentemente. Non abbiamo influenze di questo genere. Siamo molto autonomi, ma d'altronde siamo anche un'associazione di volontari, quindi è anche giusto che sia così. Chiudiamo con una domanda che facciamo a tutti. Cosa vuol dire per lei essere una Rotariana nel 2017? Questa è una bella domanda, anche perché è legata alla crisi che comunque c'è nel mondo del volontariato e che un pochettino anche la crisi globale si riflette anche nel mondo delle associazioni, perché chiaramente i problemi del lavoro sicuramente ci limitano nella ricerca di nuovi soci, perché uno degli obiettivi del club è la crescita del proprio effettivo, ma il fatto che ci sia un pochino di difficoltà nel mondo del lavoro si riflette indirettamente anche sul nostro club. Comunque noi siamo animati da una grande volontà, per cui andiamo avanti a testa bassa e ci continuiamo a quotare e a creare eventi per recuperare dei finanziamenti, dei soldi che servono poi per finanziare i progetti del club o il progetto del distretto. Però noi siamo anche in questo avvantaggiati, perché quando il progetto è un progetto di portata elevata e all'approvazione del distretto, possiamo fare capo anche a delle solvenzioni del distretto, perché i progetti che vengono approvati dal distretto hanno una sovvenzione monetizzata e quindi il progetto è più facile che possa andare in porto, perché non conta soltanto sulle risorse di un club, ma del distretto. Grazie. Grazie.